Abbiamo pensato di organizzare una festa di fine estate a Montecicardo dopo gli anni del Covid e anni in cui non si riuscivano più a fare feste in piazza. Abbiamo pensato di riportare prima di tutti i montecicardesi e gli abitanti di Montecicardo in piazza tutti insieme post Covid e poi con quest'idea degli anni 70 cercare di coinvolgere persone anche da fuori a venire nel nostro borgo. Ci saranno un DJ anni 70, un gruppo di Montecicardo, i Persistono e i Babbel, un gruppo che suona musica anni 70 e che allietterà tutta la serata e oltre qualche stand gastronomico per chi vuole mangiare. Ci sarà anche un dress code? Ma sì, è gradito un dress code anni 70 per chi vuole venire a fare folklore, insomma durante la serata è sicuramente gradito per riportare un po' di vecchio spirito nel paese. Conosco vari artisti qui a Pesaro dal DJ ai gruppi musicali i quali felicissimi hanno risposto immediatamente sì a questa festa perché ci sono due gruppi musicali, le loro scalette quindi saranno anni 70 musica italiana, anni 70 il rock degli anni 70 ma soprattutto il gran finale sarà disco music anni 70. Da dove è nata l'idea? Perché Montecicardo 70.0 e perché vengono ricordati gli anni 70 in questa festa? Allora, purtroppo negli ultimi anni, negli anni 70 sono stati poco festeggiati, a Montecicardo invece mi ho scoperto che ci sono dei gruppi musicali che vivono anche facendo musica anni 70, li ho anche ascoltati nelle serate di Via Cavour e quindi perché no far diventare Montecicardo 70.0. Grazie a tutti.